Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Circa 600 studenti hanno attraversato in corteo le strade di Napoli esprimendo solidarietà alla Palestina per ricordare i 78 anni della Nakba, ovvero l'esodo palestinese del 1948. I manifestanti con striscioni e cartelloni sono partiti da porta di massa e si sono diretti verso il Consolato americano in Piazza della Repubblica, solcando via Caracciolo. Il Consolato era protetto da uno schieramento ingente di forze dell'ordine, il corteo si è svolto in maniera tranquilla, manifestazione lungo tutto il percorso fino al Consolato americano. Poi in serata i manifestanti hanno fatto rientro a casa, gli studenti hanno chiesto tra l'altro l'immediata sospensione degli accordi di ricerca tra gli Atenei italiani e quelli israeliani. Abbassare il prezzo delle materie prime per garantire un calmiere di almeno tre anni sul prezzo del pane, ma anche aiutare gli imprenditori a dare lavoro a giovani volenterosi è l'obiettivo della regione Campania, a confermarlo il governatore Vincenzo De Luca dopo l'inaugurazione del festival Paneapolis storia, tradizione e innovazione della panificazione in scena a Piazza Mercato. Uno degli impegni che abbiamo è di realizzare accordi di filiera, cioè accordi fra panificatori e associazioni agricole per garantire la stabilità del prezzo perlomeno a tre anni, a limite anche con una integrazione da parte della regione. Ma è chiaro che non puoi produrre, non aumento certezza sul prezzo del grano. E poi abbiamo il problema che è diventato serio del personale, dei giovani che mancano. Una Kermess fortemente voluta dall'amministrazione comunale e regionale, ma anche dalle tantissime associazioni di panificatori per sostenere le problematiche del settore, ma anche per dare nuova vita alle botteghe chiuse da anni a Piazza Mercato. Vorremmo che l'amministrazione comunale e quella regionale insieme facessero una fiera permanente a Piazza Mercato per il rilancio completo del territorio. Vogliamo promuovere questo territorio affinché diventi una fiera permanente e abbiamo creato per l'occasione proprio un gioiello che è un qualcosa, è una spiga particolare che daremo ovviamente all'autorità. Una piazza simbolica, storica, meravigliosa che questi giorni ospita un altro patrimonio che è quello appunto del pane artigianale. Sottolineo il pane artigianale perché ormai quest'arte, perché è una vera e propria arte, viene fagocitata dall'industria, dall'industria del pane e quindi in qualche modo si perde la nostra tradizione. La manifestazione che chiuderà i battenti domenica ha anche sollevato il problema della vendita ormai quasi esclusiva di pane industriale nella grande distribuzione che viene preferito dalle famiglie a quello artigianale, quello cioè delle panetterie. Se volete trovare un pezzo di pane fatto bene bisogna andare solo dall'artigiano, nei supermercati sono tutti i panni industriali quindi bisogna sapere anche la cultura del cibo, quindi mangiare pane buono c'è il panettiere che garantisce, il supermercato è un pane industriale. Madeira by Jana Design presentato allo studio Keller Architettura è un prodotto esperenziale ideato dall'architetta e designer Viviana De Naya, un prodotto nato in falegnameria nella scia della tradizione delle boiserie della Francia del XVII secolo. È un progetto rivolto a chi vuole vivere il proprio spazio attraverso l'esperienza visiva e il benessere percettivo con l'aiuto di elementi materici e naturali che si può inserire un po' ovunque, in casa e costumizzare con il colore a propria scelta. Il progetto ha l'obiettivo di semplificare un processo di legno e di sperimentare diversi materiali come la ceramica e la lamiera. Ai nostri microfoni l'architetta e designer Viviana De Naya ci spiega. È un prodotto sicuramente innovativo ma nella tradizione perché parliamo di un elemento l'igno, quindi una boiserie, ma tridimensionale e customizzabile, quindi con una scelta di colori ampia che si basa sulle percezioni visive e la teoria scientifica dell'anamorfosi. Cosa vuol dire questo? Che interagisce con te nello spazio, quindi è un elemento immobile ma cambia e interagisce con te se tu ti muovi nello spazio. Quindi questa è la cosa innovativa ma resta nella tradizione perché utilizziamo un prodotto ligno, quindi filiera, campana, artigianato locale, questa è la cosa più importante oggi, quindi qualità e un po' di modernità. ha il prodotto di boiserie che oggi tanto si utilizza negli interni ma magari si ripropone sempre un po' lo stesso prodotto e questo è un po' diverso. È un vero viaggio politico attraverso la storia d'Italia, quello raccontato dall'ex eurodeputato Antonio Iudice nel suo libro Memoria, Identità, Crisi, un viaggio tra le istituzioni e il paese reale di guida editori. In 448 pagine l'ex deputato e eurodeputato ripercorre la storia politica italiana degli ultimi 75 anni ricordando vicende personali e familiari che si intrecciano con quelle della politica e del partito nel quale ha militato. Ai nostri microfoni l'autore si racconta. Il volume propone delle riflessioni che io ho potuto acquisire da una lunga esperienza negli ultimi tempi presedendo un istituto di studi e ricerche. A questo istituto sono arrivato però dopo 20 anni di intensa attività politica nella democrazia cristiana e nelle istituzioni, Parlamento europeo e Parlamento nazionale. Quindi con quell'esperienza ho avuto la possibilità attraverso la ricerca scientifica di capire le evoluzioni in corso, i mutamenti epocali che interessano la comunità mondiale dal lato dell'economia, dal lato della giustizia sociale, dal lato delle relazioni internazionali e soprattutto con grande riferimento al Mediterraneo e all'evoluzione in Africa. Il libro è un lungo percorso di diversi decenni attraverso alterne vicende storiche e periodi di vita differenti. Sullo sfondo l'Italia uscita d'erelitta della guerra, poi impegnata nella ricostruzione ed ancora abilita dal terrorismo. Un paese illuso dallo splendore degli anni Ottanta, sconvolto da Tangentopoli negli anni Novanta, confuso dalla rivoluzione digitale degli ultimi anni. Il primicerio dell'arci confraternita dei pellegrini Giovanni Cacace ai nostri microfoni sottolinea Abbiamo voluto presentare questo libro un po' perché conosciamo l'autore, è una persona diciamo a noi vicina, ma nello stesso tempo oltre a questo lui affronta nel libro un itinerario di quello che è stato l'Italia negli ultimi 75 anni, dalla ricostruzione dopo la guerra mondiale ai giorni nostri, al digitale, all'intelligenza artificiale. Siamo convinti che attraverso il libro noi abbiamo trovato anche una speranza di guardare al futuro in maniera diversa, soprattutto con l'impegno concreto. Sul tappeto, soprattutto a livello europeo, ci sono dei temi a noi molto cari, quelli dei migranti, quelli dell'inclusione, che sicuramente sono adesso i temi sui quali l'Europa deve diventare meno economica ma più sociale. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie Grazie Grazie